Buongiorno dal telegiornale Rai del Piemonte. Una visita agli stabilimenti di Fiat e Maserati, poi il primo incontro con i delegati di fabbrica. L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, è oggi in Piemonte. In diretta, collegato con noi dai cancelli di Grugliasco, c'è Gabriele Russo. Gabriele, buongiorno. Sì, buongiorno. Il CEO di Stellantis è all'interno degli stabilimenti Maserati di Grugliasco. Questa mattina ha visitato Mirafiori. Noi abbiamo i rappresentanti sindacali, perché oggi è un po' la giornata dei lavoratori, perché appunto la incontrerà i delegati di fabbrica. Davide Provenzano, segretario provinciale della FIM CISL. Il fatto che questo incontro avvenga qui a Grugliasco e non a Mirafiori, forse può dirci già qualcosa? Sì, io credo che non sia un caso che Tavares abbia voluto partire da Maserati, perché Maserati è il brand di lusso, dei modelli premium, la chiave di volta per vincere il nuovo piano industriale. Per andare nei nuovi mercati c'è bisogno di auto di questo modello, modello premium di lusso e del vero made in Italy. Maserati incarna tutte queste doti.